I Corecom d'Italia riuniti a Torino. Si è svolto, presso l'Unione Industriali di Torino, un seminario formativo sul concilia web e l'ecosistema digitale. Oltre ai funzionari e dirigenti delle strutture dei comitati regionali per le comunicazioni territoriali, erano presenti anche i vertici dell'Agicom e i rappresentanti dei gestori telefonici e dei servizi media audiovisivi. Durante l'incontro organizzato dal Corecom Piemonte si è fatto un bilancio sul sistema concilia web, una piattaforma particolarmente efficiente e funzionale per la rapida risoluzione delle controversie, che grazie alla sua recente implementazione permette di gestire in modo proficuo ogni anno migliaia di contenziosi tra gli utenti e gli operatori delle telecomunicazioni. Vincenzo Lilli, presidente Corecom Piemonte. È veramente importante oggi perché ospitiamo un seminario molto tecnico, con la presenza di figure istituzionali, il segretario generale della Gcom e delle controparti commerciali sia telefoniche che sono i nostri interlocutori principali, ma oggi sono presenti anche degli operatori televisivi.